Questo video è realizzato grazie al programma EA Creator Network. Ciao a tutti ragazzi, bentornati finalmente in un nuovissimo video, anche questa volta dedicato alla recensione di un kit. Allora, vi ho fatto uscire prima il video relativo al kit del CAS, che è quello Grunge, eccetera, eccetera. Andatela a vedere se ancora non l'avete fatto, ve lo lascio anche nell'info box. E nell'info box trovate anche tutti i miei riferimenti, se non mi conoscete. Io sono Alessandra Citesim e appunto nell'info box vi lascio anche i link per la piattaforma Viola, dove facciamo le nostre serie principali. Ma anche tutti i miei social, soprattutto Instagram e Facebook, perché lì vi do tante, tante, tante news. E infatti ragazzi, vi avevo già avvisato del fatto che il primo giugno sarebbero usciti ben due kit. Uno di CAS, che è quello che vi ho appunto già recensito, e questo qui, angolo dei libri kit. Che riguarda la parte costruisci-compra. Allora, devo dirvi la verità, io non contento, a parte avete visto il video di intro, quindi saprete che io, grazie al programma EA Creator Network, pronunciato malissimo a me, ho la possibilità di farvi vedere spesso anche in anteprima i kit. Questa volta non l'ho fatto in anteprima, ma appunto in real time, tutto sommato. Ma io già da una settimana, due settimane prima che uscisse, efferemo perché ragazzi, avere un kit per il CAS e uno per il costruisci-compra, diciamo che potrebbe soddisfare tutte le anime che abbiamo in corpo. E devo dire che è difficile scegliere, ma fatemi sapere voi nei commenti se avete già deciso quale acquistare dei due. Se l'avete già acquistati, vi ricordo comunque che se siete ancora in forze, il prezzo è 4,99 euro, come per tutti i kit. E in entrambi i casi stavolta consta di 25 pezzi, sia del CAS che nel costruisci-compra. Quindi adesso li andiamo subito a vedere e come per l'altro kit in cui ci siamo, diciamo, teletrasportati nel CAS, stavolta ci teletrasportiamo nel costruisci-compra. Tra un attimino, perché andiamo a vedere subito quali sono le immagini che appunto riportano tutti questi item. Io già adoro questo ambiente, ragazzi. Possiamo finalmente creare una libreria meravigliosa e leggiamo Un rifugio per la lettura. Organizza redi e librerie impilabili in modo che si addicano allo stile del tuo sim. Che si tratti di una poltrona davanti a una finestra luminosa o di un cantuccio accogliente. Ovviamente io sono una ceppa a costruire, ma mi sacrifico per provare le vostre reazioni. Quindi create, 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 così io scarico, scarico, scarico. Grazie. Comodo e accogliente, immergiti in un buon libro e in un comodo divano. Questo kit consente di adagiarsi nel lusso grazie ai suoi arredi morbidi e rilassanti che aiuteranno il tuo sim a distendersi. Onestamente, ragazzi, al di là del fatto che sia molto carino e prometta bene, credo che si vada a sposare anche benissimo con arredi che abbiamo già all'interno del gioco e quindi può essere un plus. Tipo adoro questo divano, vabbè, lo andiamo subito a vedere. Quindi teletrasportiamoci subito. Oggi non so parlare, non so se avete notato. Teletrasportiamoci subito nel Costruisci Compra. Ed eccoci qua, ragazzi. Siamo nel Costruisci Compra. Ma sebbene vi possa sembrare che ci siano poche cosine che rientrano appunto in questo kit, in realtà ve le faccio vedere da vicino. Io sono veramente estasiata perché aggiungono veramente uno stile meraviglioso. Io lo so che lo dico in tutte le recensioni, però ragazzi, davvero. Soprattutto perché, vabbè, tanto lo vedrete da voi. Allora, innanzitutto i colori che caratterizzano il kit in generale sono colori abbastanza tenui, ad eccezione appunto di qualcuno, che dovrebbero anche agevolare il relax, la calma, eccetera, eccetera. E quindi, secondo me, adorabili sotto tutti i punti di vista. Allora, abbiamo praticamente due divani, una poltrona, un tavolino, un tavolo basso, una specie di scrivania, che poi tra l'altro vi devo dire la verità, ma questo tavolo, tavoli scaffali, no, non credo che valga come scrivania. Purtroppo non si può mettere una sedia perché giustamente qui è bloccata, altrimenti, però sarebbe stata molto carina, secondo me, come scrivania. Abbiamo un tappeto, una lampada, una lampadina, diciamo così, a bajur da tavolo. Poi abbiamo diversi accessori, libri, eccetera, eccetera, che adesso vi faccio vedere da vicino. Abbiamo una colorazione di muro, che in realtà è una carta, tipo carta da parati, o comunque legno, però, ragazzi, potete trovarla colorata, cioè potete colorarla in diverse tonalità, vedete, da qui. Io ho inserito quella marrone e quella chiara, ma in realtà ce ne sono anche di altre, tipo questa che è proprio sul grigio, poi c'è anche scura scura. E in realtà, ragazzi, lascia un po' il tempo che trovo. P.S., ricordiamoci questo kit meraviglioso, vi ho recensito. Comunque, diciamo, il muro lascia un po' il tempo che trova, soprattutto se volete costruire una biblioteca chiusa, proprio, che vi tumula nei libri. E questa cosa la potete fare utilizzando anche queste librerie meravigliose che escono. Questa tipologia qui, che va incastro con questa. Abbiamo un nuovo quadro, che in realtà andiamo a vedere, perché può essere modificato come più vi aggrada. Guardate che carino, con le farfalline! E anche questa tipologia. Poi abbiamo questo qui di sopra, questo senza libri, questo con i libri. E questo qui basso, che poi potete anche alzare, come vi aggrada. Anche il tappeto, ragazzi, secondo me è molto carino. Ve lo faccio vedere il dettaglio, vedete, di queste zigrinature. Anche il lato non è... Cioè, diciamo, i contorni non sono precisissimi. Mi sa tipo di una pelliccetta. E in effetti mi richiama anche delle pelliccette che mi sembra siano anche sul divano. Almeno fino a quando, ecco, non arriviamo a questa tonalità. Da qui si passa a costine. E le vedo proprio, ragazzi. Cioè, non mi sembra una... Cioè, proprio, si vedono. E quest'altra. E stessa cosa anche qui, vedete, costine, costine. Altrimenti pelliccetta. Anche le lampade, la lanterna e la lampadina qui a Bajur. Potete cambiare, ovviamente, le colorazioni. E questa nello specifico, ragazzi, io la adoro. Ed è una delle cose che utilizzerei nella vita reale. In realtà, un po' tutto. Perché guardate che carina anche qui. Anche la lampade, scusatemi, la candela fa luce. Vedete, infatti, rischio incendio. Vedete che ve la spostate. In effetti rischio incendio perché la candela è attiva. Però appunto ve lo faccio vedere con la luce per vedere anche questi dettagli. Guardate questa che meraviglia. Cioè, ragazzi, davvero. C'è sta libraia da leggere. È una cosa del genere. Come si chiama? Aspettate, dove sta? Eccola qua. C'è sta libraria. Libraria. Vabbè. Libraria da leggere. Dovrebbero essere anche queste, quindi, delle librerie. Cioè, nel senso, dovreste... No, forse questo è un accessorio. Forse anche questo. Fatemi vedere un attimo quali sono gli accessori. Questo anche dovrebbe essere un accessorio. E quali... Questo qui, invece, è una libreria. Vedete? Cliccandoci sopra andate proprio lì. Una libreria nel senso di un posto in cui potete andare ad acquistare libri. Reggi libri. Mettiti in prosa. Questo qui è un portariviste. Molto carino anche questo. Questo anche è un oggetto. Non è una libreria. Peccato. Questo era molto, molto carino. E, tra l'altro, vedete, potete cambiarlo anche con... No, vabbè, ragazzi. Richiama... Cioè, sopra ci sono le copertine che richiamano... Cioè, vi rendete conto? Non so se avete già capito quello che sto pensando perché non lo sto esprimendo. Richiama, guardate, il quadro che è qui. Cioè, praticamente, questo quadro rappresenta una copertina. Rappresenta delle copertine. Quindi, se, per esempio, vi piace questo quadretto e anche la ragazza con le farfalline tutto intorno. Lo trovate qui. Eccolo qua. Cioè, vi rendete conto? Vabbè. Poi questo portariviste è anche qua. Nella rivista ho portalibri. In realtà, potete vedere i vari libri. Qui, in realtà... Ragazzi, qui aveva senso se fosse stata una libreria. Boh, vabbè. Questo qui è un tavolo basso, molto semplicemente. Questa qui è un vassoio librario cura personale. Ragazzi, io questo lo amo. Amo, amo. Soprattutto perché, come potete notare... Mica è un libro? No, dovrebbe essere un oggetto. Poi, ovviamente, fatemi sapere nei commenti se l'avete già acquistato. Se ho detto qualche cavolata. Non lo escluderei, ma io adoro. Come potete notare, la tazza... No, vabbè, ragazzi, vi giuro. È una tipologia di tazza che io amo. Tipo tutta marmorizzata. No, vabbè, qualcosa di impressionante. Allora, lo so. Potrebbe sembrare molto semplice da certi punti di vista. Ma adesso vi faccio vedere anche, con un teletrasporto, la, diciamo, tipologia di stanza che hanno creato con questo kit. Eccola qui, ragazzi. Guardate... No, vabbè, scusatemi. Guardate qua. Ma io non ho capito. Pila di libri? Ma questo... Cosa cavolo è successo qui? Me la sono persa, sta cosa? Ah, era una pila di libri che poteva essere messa ovunque? Sì... Praticamente è una... Cioè, non so come io me la sia persa. Comunque è praticamente una mensola, una superficie. Io adoro tutto, ragazzi. E la potete inserire appunto sul muro o da qualche altra parte per poi poggiarci le cose. E nello specifico è stata poggiata appunto la luce volante. Vabbè, adoro tutto. Questo tacquino in realtà non esce da questo kit. E credo che sia proprio nel gioco base, comunque. Per il resto dovremmo aver visto tutto. Ah, ovviamente non ho dato abbastanza adito al tavolino basso e a questo qui. Che però in realtà mi piace tantissimo perché si intravedono appunto i libri sotto. E devo dire che tutto il resto è adorabile. Guardate qui la composizione come è stata fatta. Pira di libri qui. Il cosino della candela che poi richiama... No, ragazzi, guardate. Questa è la tipologia che vi dicevo che mi piace. Come colorazioni tutta con queste macchiettine. E anche la tazza qui nello stesso modo. Certo, il colore poteva essere proprio uguale, però vabbè. E questo è praticamente uguale in realtà. Eccolo qua, tipo. O tipo. Sì. Adoro tutto. E anche qui la nuova libreria. Questa qui il cosino. Questo, scusatemi, ma... Ah, è stata messa sopra. No, che carino. Vabbè, poi potete fare le modifiche che volete. E devo dire che questa è tanta roba. Mi piace tantissimo già soltanto questa cesta. Anche i quadretti. Perché mettono quel qui di in più. Devo dire la verità. E quindi niente, ragazzi. Abbiamo visto tutto. Come vi dicevo, poi potete inserire. Inserire tutta la quantità di libreria che volete. Ma ovviamente se voleste fare proprio una bellissima biblioteca. A parte già questo angolo, noi gli abbiamo dato abbastanza credito con la finestra sotto e sopra e sotto il divanetto per fare l'angolo lettura. Amo tutto. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Tocca a voi, ovviamente. E inutile dirvi che io ho adorato, ma ovviamente sono aperte alle critiche. Quindi anche commenti, critiche relative a eventualmente il fatto che non acquisterete questo kit. Per quale motivo non lo acquisterete. Ma se lo acquisterete fatemelo sapere. Soprattutto se avete già gli altri DLC. Perché, come vi ho già detto, ve l'ho detto anche per la parte del CAS. Alcune cose richiamano cose già presenti in altri DLC. Però non è detto che tutti abbiano gli stessi DLC. Quindi se voi già avete tutto, fatemi sapere se deciderete di acquistarlo. Se l'avete già fatto della serie. Ogni cosa nuova è un'aggiunta. E ogni lasciata è persa. Quindi ci vediamo nel prossimo video. Se questo vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un pollice in su. Iscrivetevi al canale. E cliccate la campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video. E dei nuovi contenuti. Ovviamente, ragazzi, la piattaforma viola. Perché lì facciamo le nostre serie principali. E cliccate il cuoricino anche lì. Ci vediamo nel prossimo video. Un bacio a tutti e ciao!